C'è una partita tosta, come tutte quelle che si stanno presentando ultimamente, come saranno tutte le partite di questa stagione, quindi credo che siamo stati bravi a mettercelo in testa che sarebbe stata una nuova taglia e sebbene abbiamo fatto fatica il primo e il secondo serve, dopo siamo riusciti a venirne fuori con grande entusiasmo, non abbiamo molato, quindi questa è una cosa molto positiva che dobbiamo tenere stretta. Poi sicuramente ce ne sono delle cose che dobbiamo migliorare e niente, c'è da lavorare, c'è da lavorare, però intanto ci prendiamo questa vittoria e questi due punti.